Parlare di immigrazione andando oltre i luoghi comuni e promuovere modelli positivi di integrazione è l'obiettivo dell'iniziativa che si è tenuta alla Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Una giornata di confronti e discussione organizzata dal sindacato pensionati Speech GL di Reggio Emilia e regionale. L'assenza di politiche del lavoro e complicati processi di inclusione e integrazione creano percezioni di pericolo sociale. Servono dunque informazioni e chiarimenti, come ad esempio sul fronte dei contributi previdenziali. Un contributo abbastanza importante perché i lavoratori stranieri sono 2 milioni e 200 mila oggi quindi i lavoratori regolari pagano le tasse e versano i contributi all'Inps quindi circa 8-9 miliardi l'anno di contributi Inps e 4-5 miliardi di tasse. Anche sul territorio servono buona politica, progetti e iniziative. Immigrazione oggi significa accogliere tutte queste persone in una città che cresce cogliendone il potenziale e quindi facendo in modo che il portato delle diverse nazionalità e sono più di 100 presenti in città possa far crescere dal punto di vista culturale, economico, produttivo la nostra Reggio Emilia. Molto occorre dunque fare sulla percezione di insicurezza diffusa tra i cittadini. E anche se fosse solamente una percezione sicuramente non va sottovalutata e vanno date delle risposte. In Regione Emilia Romagna ci stiamo impegnando per una maggiore integrazione perché la risposta vera è una maggiore integrazione. Se le persone che arrivano da altri paesi imparano la nostra lingua, imparano i nostri costumi è già più facile rapportarsi con i nostri concittadini, con le popolazioni che vivono in questi territori. Se le persone che arrivano da fuori e vengono instradate anche in un percorso di lavoro o di volontariato è molto più facile che si integrino con coloro che vivono in queste città da tanti anni. Ciò che accade in Europa sta creando maggiore rigidità tra le persone. Anche chi non si professava razzista oggi manifesta la propria insofferenza. Purtroppo abbiamo visto anche in campagna elettorale c'è stato molte toni molto alti, disinformazione ce ne sono tante e quindi fare un'iniziativa che cerca di raccontare come sono cambiate le città e come dobbiamo convivere nelle città con le trasformazioni in atto. Quindi farlo con un approccio non sottovalutando i problemi ma affrontandoli cercando di trovare soluzioni con tutti gli attori che lavorano intorno a questo tema. Il ruolo del sindacato è fornire strumenti di conoscenza per elaborare proposte politiche adeguate. Noi vogliamo attraverso proprio il nostro lavoro nel territorio, nelle leghe, fra i nostri iscritti, simpatizzanti ma anche chi si rivolge semplicemente a noi, cercare di dare informazioni corrette sul tema dell'immigrazione ma soprattutto anche creare relazione fra chi arriva, ospite da noi e vuole anche rimanerci per creare un progetto di vita e noi che siamo qui dobbiamo capire, sapere che li possiamo e li dobbiamo accogliere.